ma senti una cosa mi scusi ma dove stiamo andando ci stiamo avventurando con questo no intanto con questo siamo con il nostro mezzo di trasporto ma non sappiamo dove andremo dove andremo comunque stiamo andando in calabria con la bici ci stiamo imbarcando in calabria con il nostro canale in calabria con il nostro canale in calabria con il nostro canale permesso in calabria in calabria in calabria in calabria in calabria con il nostro canale in calabria 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.